Per l'incontro della categoria esordienti tra Virtus Lanciano 1924 e 1920 Lanciano Calcio la prima classificata alla finale è la Virtus Lanciano La prima classificata per la finale di domani La prima classificata per la finale di domani La bellissima semifinale ragazzi Ragazzi dall'altra parte si esce ragazzi A oggi pomeriggio per l'altra semifinale tra le ore 15 tra il Pescara e la Virtus Lanciano Altra semifinale oggi tra il Pescara e la Virtus Lanciano alle ore 15 adesso c'è la pausa pranzo ci rivediamo nel pomeriggio ci rivediamo ci rivediamo ci rivediamo grazie grazie